Buona giornata amici di Fano TV, ben trovati alla rassegna stampa. Oggi è sabato 17 dicembre 2022, il sole sta per sorgere alle 7.36 e tramonterà oggi alle 16.32. Iniziamo la lettura dei giornali, però passiamo attraverso l'almanacco del giorno. Vediamo che il santo che si festeggia oggi è San Giovanni de Mata, un santo che visse nel XII secolo, fondatore dell'Ordine dei Trinitari. Era un ordine che si impegnava per la redenzione degli schiavi, soprattutto per quanto riguarda la prigionia che i musulmani imponevano a coloro che venivano catturati in guerra. Viaggiò moltissimo, viaggiò in Spagna, Marocco, Algeria, ovunque compiva a prodigi per liberare gli infelici appunto dalle mani dei musulmani. San Giovanni de Mata, questo è il santo del giorno. Le previsioni del tempo ci annunciano che ci saranno nubi irregolari su tutta la regione nella giornata di oggi. Ci sono nubi compatte, maggiori addensamenti al mattino all'interno, al pomeriggio sera sulla costa. Ci saranno anche dei piovaschi. I venti con una tensione media debole da ovest-nord-ovest e sulle coste, all'interno invece da sud-ovest. Le temperature si aggirano sui 6-10 gradi, la minima e la massima, mentre il mare continua a essere mosso. Bene, queste le notizie per quanto riguarda l'apertura della nostra rassegna stampa, che oggi iniziamo con le notizie di sport. Vediamo che la Vis è impegnata a sostenere lo scontro con Carrara. Brevi, voglio più attenzione, ha dichiarato. Oggi il incontro alle 14.30. Altra gara delicata questa per la Vis Pesaro per quanto riguarda la sua posizione in classifica. Il tecnico dice alla squadra passi avanti nel gioco e nella lettura delle situazioni. E' un po' l'input che il tecnico dà ai suoi giocatori. Per quanto riguarda invece il Fano Calcio, il Fano Calcio deve stare attento perché ha in programma una gara piuttosto impegnativa, quella con il Chieti. Chieti ha fatto la rivoluzione, ha integrato consistentemente l'organico della propria squadra con diversi acquisti. Fano è avvisato a questo proposito. Una raffica di acquisti per i teatini. La Samb penalizzata di un punto. Mancato pagamento, contributo IMS, ricorso dell'Alma congela tutto. Ci sono diverse notizie che vengono richiamate dal titolo. Ma per quanto riguarda la questione dell'Inps vediamo che è una questione completamente differente da quella in cui è implicata la società Fano Alma Juventus che deve risolvere il problema di questi mancati pagamenti. L'avvocato Giovanni Orciani, che assiste la società Granata, ha confermato che il verbale di accertamento dell'Inps che riguarda un periodo quando il Fano Calcio militava in Serie C è stato impugnato con l'ausilio di un avvocato specialistica in queste questioni e quindi il ricorso è stato regolarmente presentato il 5 dicembre scorso e vedremo che fine farà. A Urbania, aria di E, di Derby, si parla di promozione c'è un anticipo con la Cagliese, Dolce a Fredda a Fermignano la gara è stata rinviata. Per quanto riguarda invece la prima e la seconda categoria abbiamo un articolo che riguarda un po' diverse gare c'è comunque Vismara Real oggi in prima categoria si giocano gli anticipi valevoli per la tredicesima giornata. Vediamo anche la VL, il basket una trasferta insidiosa a Verona servirà concentrazione Ramagli sottolinea possiamo batterli solo se difendiamo forte la Tezenis e prima nelle palle recuperate e poi ancora per quanto riguarda il VOL e invece Derbissimo, Bottega, Virtus Fano, Borgo Volley, Belicoso a Pesaro oggi l'APAV, l'APAV di Lucrezia incrocia il Rimini Cella, gara fondamentale Glasset cerca il conferme con la quotata Senigallia questa è una piccola panoramica per quanto riguarda la situazione sportiva ed ora diamo un'occhiata invece alle pagine con cronaca locale a cominciare con Fano Premetto una precisazione ieri ho detto a proposito del recupero dell'Interquartieri che intende realizzare l'amministrazione comunale che la Giunta ha approvato una si intende almeno approvare un mutuo di 25 milioni per il recupero dell'arteria in realtà la Giunta vuole sperare che la Regione confermi il finanziamento di 20 milioni di euro al quale aggiungerà 5 milioni che sono questi la quota limitata per cui accenderà un mutuo oppure userà l'avanzo di bilancio quindi è un mutuo molto più limitato rispetto al totale della somma globale e poi volevo anche segnalarvi una bella iniziativa una mostra che si è inaugurata ieri a Fano nella sala Morganti del palazzo malatestiano si tratta della mostra natalizia sui codici malatestiani dei veri proprio gioielli di storia di di contabilità ma anche di un'atmosfera quella malatestiana che via via viene rivalutata grazie al centro studi malatestiani che sta operando veramente in maniera mirabile tanto per gli studenti quanto per tutti i cittadini Fano è romana ma Fano è anche una grande città medievale ed ora passiamo veramente a quello che dicono i giornali oggi sul Corriere Adriatico vediamo che c'è un incidente e quindi si parla di cronaca cade per una buca in via Roma braccio rotto rischio il lavoro andava in monopattimo l'incidente è accaduto ad un ragazzo di 29 anni soccorso dal 118 è stato medicato a Santa Croce ebbene è un miracolato perché poteva andare anche peggio ma è anche infuriato si tratta di Alexander Previtali fanese appunto di 29 anni se l'è vista davvero brutta giovedì pomeriggio poco dopo le 14 quando transitava in via Roma è incapato in una buca è caduto e si è fatto veramente male cadendo si è fratturato un gomito e ha escoriazioni dappertutto in ospedale al pronto soccorso gli hanno applicato un tutore che dovrà indussare per i prossimi 23 giorni e poi abbiamo una interrogazione del Movimento 5 Stelle lo vediamo in questo articolo di fondo che recrimina perché nell'ultima seduta del Consiglio Comunale che è stata convocata per giovedì prossimo non sono inserite le delibere che riguardano le varianti verdi cosa sono le varianti verdi? sono quelle varianti richieste da alcuni cittadini che hanno delle aree edificabili per i quali pagano l'Imu ma queste aree ormai sono diventate insostenibili per i proprietari stessi i quali non riescono a pagare queste tasse non riescono a costruire quindi intendono farle ritornare ad una definizione a livello urbanistico come aree agricole in realtà questa delibera tarda ad arrivare in Consiglio Comunale e appunto il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle recrimina contro la Giunta perché disattende questa istanza variante verdi rinviate ma non i supermarket il supermarket invece è quello che viene progettato a Centinarola dove appunto ancora il Movimento 5 Stelle dice è un'iniziativa contro i piccoli negozi in questo caso un supermercato non si fa più a bell'occhi e quindi si recupera questa previsione a Centinarola ma anche qui ci sono polemiche ho sentito il bruciore e volevo scappare mi sono girato c'era un groviglio umano un titolo che riguarda una testimonianza resa al processo sulla strage della Lanterna Azzurra che si sta celebrando in Ancona si tratta dei fatti di Corinaldo ancora testimonianze su quella tragica notte che ha determinato la morte di tanti ragazzi e anche di una mamma che aveva accompagnato la figlia per una serata doveva essere una serata di innocente divertimento in discoteca e purtroppo si è rivelata come una tragedia la strage della Lanterna Azzurra rivissuta da un giovane in tribunale l'indignazione del papà di Mattia Orlandi e poi ieri vediamo che si è inaugurato il presepe di San Marco il presepe di San Marco a Fano è una delle realizzazioni monumentali più belle più corate più artistiche non finisco mai di trovare degli aggettivi per descrivere questa grande composizione che non è un semplice presepe ma è veramente la storia della salvezza Don Marco Polverari l'autore di questa mirabile opera illustra l'ultimo quadro 13.000 i visitatori post-covid pensate quante persone hanno visitato questa galleria di diorami sono tantissimi oltre 50 57 per la precisione e ieri si è inaugurato un nuovo diorama si tratta si tratta della visita scusate vediamo un attimo del passaggio in Giudea della Sacra Famiglia diretta verso Nazareth per dribblare Archelao figlio di Erode siamo nel diorama numero 57 che il sindaco Massimo Seri vorrebbe fosse identificato in futuro come appunto i diorami della salvezza nella città della fortuna e tra le novità c'è anche l'omaggio a Mario Mantoni che per quasi 20 anni si è speso instaccabilmente per gli allestimenti appunto del presepe la cui immagine è stata ora raffrescata da Maurizio Romagnoli anche lui uno storico artista che collabora con Don Marco Polverari per la realizzazione di questa monumentale opera artistica Davide Del Vecchio lascia l'Udc tradito il progetto lo ha dichiarato lui stesso ieri lui era responsabile provinciale di questa forza politica ma a questo punto deludente il programma e tutto quello che si fa a livello nazionale per cui Davide Del Vecchio di matrice democristiana aveva continuato la sua attività politica dopo il tramonto della grande balena bianca sotto l'edigia dell'Udc ora si trova nella condizione di scegliere un nuovo partito una nuova forza politica ed ora passiamo a Cagli a Cagli dove si è verificato un nuovo dissesto del territorio è caduta una frana ed è sfiorata una tragedia ho fermato l'auto appena in tempo ha detto una donna che transitava in quel momento si tratta della strada per Pianello interrotta dai massi una tragedia sfiorata sulla strada provinciale 29 ora chiusa tra Pianello e Secchiano di Cagli appunto a causa di una grossa frana a Cantiano invece si documentano i danni provocati dalla alluvione e c'è un video realizzato da dal giornalista videomaker della provincia Filippo Biagianti storie e testimonianze di una comunità ferita in cerca di ripartenza si intitola questo video che è stato realizzato con tutti i momenti drammatici che sono seguiti per l'intensa pioggia che è caduta e ha causato tanti tanti disastri nel nostro territorio la linea del fango questo è appunto il titolo di questa opera e nel filmato si intrecciano i racconti di chi prova a rialzarsi tra difficoltà e coraggio quindi prima la tragedia e poi la forza di reazioni della popolazione vediamo anche la pagina di Senigallia Capodanno in piazza lo show è servito è stato reso noto il programma ieri per la festa di fine anno weekend del gusto il pesce superstar oggi e domani incontri ai laboratori per valorizzare il prodotto etico locale e c'è anche Ugliassi uno dei maggiori chef a livello nazionale sono stati comunque definiti i dettagli di Capodanno in piazza a Senigallia con la Little Tony Family e la conduzione di Marco Zingaretti uno spettacolo questo che prevede nella sera del 31 dicembre l'esibizione del gruppo di cantanti musicisti e ballerine con un repertorio musicale che abbraccia anche brani internazionali e brani degli anni 70 vediamo anche qualche notizia di Pesaro dove si parla di un input che ha lanciato la presidente della Confindustria Alessandra Barronciani che a Palazzo Ciacchi ha fatto il bilancio del suo primo anno di attività alla presidenza dell'Associazione degli Industriali e l'ho fatto invitando non solo gli imprenditori ma anche l'Università di Urbino la provincia di Pesaro Urbino i sindaci e i sindacati a collaborare per l'elaborazione di un progetto comune questo per dar vita state bene a sentire un patto su impianti e infrastrutture Barronciani in realtà è tornata a chiedere che cosa per dire in senso drammatico una gestione più razionale della raccolta dei rifuti occorre un impianto per il trattamento dei rifiuti industriali non pericolosi ci sono due descariche ma sono in esaurimento e la mancanza genera problemi ambientali ed economici che stanno preoccupando veramente le imprese questo non tanto a lungo raggio ma ormai siamo prossimi a dover confrontarci e risolvere questi problemi giriamo ancora la pagina e vediamo che all'osservatorio Valerio sono ripresi i bollettini meteo in corso i lavori di restyling in arrivo altri 300 mila euro dal PINQA PNRR progetto PINQA che dà soldi che dà contributi per opere di sicuro interesse e intanto ancora chiuso il laboratorio prelievi di Piazza Redi una promessa mancata questa da parte della regione e insorge il vicepresidente del consiglio regionale Andrea Biancani che ha presentato una interrogazione alla regione per chiedere spiegazioni per questa mancata apertura che si fa ora importante poi vedremo anche perché per la riapertura appunto di questo ambulatorio e vediamo perché è importante questa realizzazione perché in questo momento c'è una forte ripresa dell'influenza del virus dell'influenza e del virus del covid una copiata veramente che ha reso ancor più virulenta l'aggressione di questa malattia e quindi occorre i ripari poi lo vediamo c'è ancora un articolo su questo sul Corriere sul resto del Carlino che parla della necessità di ricorrere alle vaccinazioni in modo particolare per quanto riguarda i bambini quelli in tenera età che sono più soggetti al virus e passiamo ad una soluzione sempre sul Corriere Adriatico Vertical Bio assolti i 23 imputati per i giudici le prove non sono sufficienti è un megaprocesso che era incombente da diversi anni ebbene molte persone erano accusate di avere contraffatto il prodotto cerearicolo che in realtà non era bio ma era stato posto come bio però di questa situazione i giudici non hanno trovato delle prove convincenti e quindi hanno assolto tutti i 23 imputati i fatti contestati risalgono ormai fin da lontano 2007 fino al 2013 e dopo due anni di udienza preliminare iniziata nel novembre del 2016 erano stati rinviati a giudizio 25 tra imprenditori e certificatori per il reato di associazione finalizzata alla frode dell'esercizio del commercio insomma una frode di carattere alimentare gioia ovviamente esuberante da parte degli imputati che si sono sgravati di un grosso peso e di una grossa responsabilità vediamo ancora i giornali a partire dal resto del carlino l'apertura è dedicata a questo weekend natalizio che si così profila non certo molto esuberante un Natale in bianco intitola il giornale la pioggia uccide lo shopping e questa fotografia di un corso Matteotti semi deserto dimostra come ci sia poca propensione agli acquisti chiusure anticipate delle attività e tanta desolazione in centro storico l'allarme è quello della confesarcenti poche compere e non c'è gente che passeggia in centro hanno dichiarato i rappresentanti di categoria perché questo ebbene perché forse la tredicesima questo stipendio in più che si aggiunge alle scarse possibilità per molte persone di arrivare alla fine del mese è tutto dedicato al pagamento delle bollette e poi l'inflazione si porta via gran parte di quello che c'è in più mangia a scrocco in mezza città i baristi lanciano l'allerta sui social ebbene è una quarantenne una quarantenne una signora ben vestita che sembra una personcina a modo la quale fa il giro dei locali però si dimentica di pagare e le vittime raccontano tutti i sotterfugi che lei usa per evitare di pagare il conto estrae una carta di credito questa poi non riesce a essere considerata valida allora aspetti che devo andare in macchina a prendere quell'altra perché questa magari è quella vecchia insomma cerca con la sua parlantina di uscire un attimo in realtà poi si dilegua e addio pagamento del conto attenzione una quarantenne ben vestita mangia molto dicono dice l'articolo però paga paga poco anzi non paga per nulla il presepe di San Marco si arricchisce ancora vediamo qui una delle immagini nuove che Don Marco Polverari ha allestito in questa grande costruzione a Palazzo Fabri Palazzo Fabri è un palazzo storico trasformato in case popolari però ha uno scantinato tutto dedicato a questo presepe sulle mura papaline sulle mura che delimitano Viale Cavallotti a Pesaro da 22 anni la grande opera d'arte è visitabile nelle cantine di Palazzo Fabri una superficie di 350 metri quadrati tiriamo ancora la pagina e vediamo che a Colli al Metauro c'è un occhio in più sulle scuole un sistema di videosorveglianza e l'incremento dell'organico della polizia locale da 5 a 7 unità fa sì che insomma si aumenti la sicurezza in questo centro della provincia di Pesaro Urbino il comune di Colli al Metauro investe sulla sicurezza attraverso un nuovo sistema di sorveglianza l'incremento dell'organico della polizia locale passa da 5 a 7 unità e ci sono più videocamere 4 occhi intelligenti di ultima generazione che sono stati finanziati dal Ministero dell'Interno che vigileranno sulla sicurezza di parti interessanti del territorio comunale vestiti di rosso incanta il Politeama l'altra sera si è svolto questo spettacolo realizzato dall'Accademia dello spettacolo di Fano con l'inserimento di alcuni ragazzi che hanno altri problemi ma la cui integrazione con i ragazzi che partecipano allegramente stupendamente sempre con grande adesione e grande vivacità alle iniziative dell'Accademia dove si insegna canto recitazione e anche danza hanno reso questo spettacolo veramente interessante bello da vedere ma anche profondo da considerare su cui riflettere San Costanzo alla Concordia in scena cattivi bambini per teatri d'autore la stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro Urbino organizzata dall'AMAT stasera alle ore 21 e 15 al teatro della Concordia di San Costanzo prevede lo spettacolo concerto cattivi bambini con Nicolà Ciufferri Paolo Gioia Daniele Celona Andrea Angeloni Michele Petrucci e Michele Cera un bel appuntamento per passare una serata piacevole in provincia ormai scade il mandato del presidente e ad Urbino il sindaco Gambini propone che l'elezione non venga più quest'anno ancora si continua non venga più fatta dai sindaci e dai consiglieri comunali ma torni ad essere fatta dai cittadini c'è bisogno di questa istituzione quella della provincia Luca Londè dice favorevole al ripristino comunque è una si è creato un grande vuoto dopo che la provincia è stata esautorata di molte delle sue incombenze si sente che questo ente che sovraintendeva a una vasta parte del territorio poteva determinare una grande influenza grande influenza che ora invece è passata un po' alla regione un po' ai comuni un po' non si sa a chi bisogna rivolgersi insomma c'è un clima che propone il ripristino di questo ente così come era prima Fermignano fa boom ecco il festival dei panettoni doppia giuria eleggerà il migliore una bella iniziativa di carattere gastronomico natalizio in quel di Fermignano e poi vediamo un articolo che riguarda la frana che si è verificata nei pressi di Cagli il monte crollava ho rischiato di morire tragedia sfiorata ieri nella provinciale di Cagli una grossa frana Stefania Simoncelli vedevo i massi cadere davanti a me e anche in questa fotografia vediamo quello che è accaduto quindi siamo un po' come i suoi occhi che hanno visto cadere questa massa di massi di massa di massi sulla careggiata stavo andando a lavoro in auto mi sono salvato in mi sono salvata in retromarcia e questa è l'ultima notizia a questo punto chiudiamo i giornali terminiamo la nostra segna stampa vi do appuntamento all'undi prossimo alle ore 7 e questa sera alle ore 20 e 30 un riassunto di tutte le notizie che si sono verificate in questa settimana nel Tg di Fano TV occhio alla notizia e questo è tutto grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti grazie a tutti Autore dei sovrapposti